buonasera benvenute benvenuti sono roberto martorelli del museo civico del risorgimento e anche quella di questa sera è uno dei tanti nostri appuntamenti su facebook della storia a porte chiuse che a partire da praticamente oggi quindi da novembre si terrà tutti i lunedì e tutti i martedì salvo sorprese preparatevi vi ricordo che al momento il museo è aperto con una mostra e anche il cimitero della certosa è aperta e visitabile normalmente questa sera vi voglio dilettare e vi voglio dilettare presentandovi uno dei più grandi pittori della metà della prima metà dell'ottocento bolognese cosa abbastanza rara per i nostri pittori dell'ottocento soprattutto è un pittore che è stato molto studiato è stato pubblicato e gli è stata anche dedicata una bellissima mostra alcuni anni fa per cui per nostra fortuna o tra l'ampia scheda che potete trovare sul nostro sito storia e memoria di bologna che è corredata da moltissime immagini ci sono in particolare due libri usciti a breve distanza l'una dall'altra che sono dedicata a questo fantastico pittore dell'ottocento bolognese che si chiamava Antonio Basoli è un signore che nasce in provincia verso Imola a Castelguelfo nel 1774 avrà una vita abbastanza lunga per l'epoca perché morirà nel 1848 tutto sicuramente avrà avuto una vita molto intensa e piena di soddisfazione la nostra fortuna è che si in Accademia si conservano devo dire decine diciamo pure decine di album realizzati da lui nell'arco di tutta la sua vita e soprattutto è pervenuta noi le sue memorie non era una cosa rarissima che gli stessi artisti scrivessero le proprie memorie ricordando tutto quanto il vantaggio di Basoli che era oltre un grafomane nato era anche precisino e quindi nelle sue memorie metteva anche le commissioni quanto riceveva anche di soldi quindi si può scorrere la vita l'esistenza di questo grande artista proprio attraverso le sue parole e quindi diamo innanzitutto appunto a lui voce con questo che è il primo dei due volumi che sono usciti dedicati a Antonio Basoli questo è proprio è la vita artistica di Antonio Basoli quindi è il libro che raccoglie la trascrizione e lo studio approfondito delle sue dei suoi ricordi familiari che ovviamente cominciano con la sua nascita come tutti tutti i ricordi quindi vediamo come scriveva di sé il buon Basoli che abbiamo detto nasce nel 1774 nacquillo Antonio Giuseppe Basoli figlio di Lelio Andrea Basoli di Apollonia Fontana legittimi sposi e fu battezzato nella parrocchia di Castelguelfo dedicata a San Giovanni De Collato l'anno di Cristo 1774 18 aprile Castelguelfo egli un paese dello stato bolognese ai confini dello stato imolese ossia della Romagna fui allattato da mia madre ed allevato da Lucia Appi di Castelguelfo fu la prima maestra che io ebbi e mia madre mi dice che apprendevo subito tutte le piccole cose che mi veniva insegnato dalla stessa Nobilini cominciai a imparare di leggere e scrivere e in quest'anno ebbi il vaiolo in gran quantità Masina di Castelguelfo fu il primo maestro che mi insegnò di leggere e scrivere e fare dei conti in questa età fui indicato con gran rigore da mio padre ma però con tutta l'amorevolezza Don Uccellini maestro pubblico di Castelguelfo fu il secondo maestro di leggere e scrivere ed aritmetica e via elencando Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci dà solo annotazioni diciamo così un po' sterili cioè dei suoi lavori ma ci diverte anche quei suoi ricordi un po' familiari non va nell'intimo perché questa non è una raccolta di lettere agli amici ma però ci sono notazioni molto interessanti, molto carine per noi che le leggiamo oggi e per esempio, e qui facciamo un bel salto, siamo già nel 1796-97 Bologna è completamente sconvolta dall'arrivo dell'esercito francese Già da alcuni anni, dopo la rivoluzione, le idee arrivavano a Bologna ma fisicamente i francesi arrivano da noi nel 1796 Lui già lavorava perché la sua fortuna che era già suo padre si dilettava di decorare le case e quindi lui già da piccolino stava dietro al padre e siccome fu un grandissimo decoratore lui dovrebbe oggi un grande designer forse si metteva spesso in società quindi per fare per esempio le grandi decorazioni dei teatri o intere ville gli affreschi, le decorazioni di intere ville spesso si metteva in società e per esempio nel 1797 dice Disfeci la società con corsini perché era pigrissimo nel lavorare ed io ero veloce e sollecito in conseguenza in società mi dava danno e poi gli avventori erano quasi tutti miei perché mi ero guadagnato un poco più di nome forse anche per la mia esattezza e puntualità Precisino Ma ci sono notazioni anche più personali, più carine Qui siamo l'anno dopo A quest'epoca già avevo avuto degli amoretti e degli affari galanti ma questi non mi avevano distolto già mai dai miei lavori né dai miei studi Anzi mi servivo della conversazione delle mie belle per fare lucidi, copie, invenzioni ed altro che in seguito verrà notata la qualità dei studi e quantità di disegni allorché li raccolgo in libri Le brilli teatri e le più brillanti società frequentavo e mi trovavo anch'io nelle ore dovute In mezzo al gran mondo La qualcosa mi faceva sempre allegro e di buon umore Cosa necessaria agli artisti Cosano da queste piccole coma Se acquistate il volume lo venite anche a chiedere in prestito in biblioteca Vi potete divertire a leggere le sue memorie Si leggono in due o tre ore Più che bene E si capisce subito che lui è un artista che ama stare in mezzo alla società Frequenta il bel mondo E che quindi si riesce a agganciare i clienti Perché in effetti il nostro buon Basoli Già dai primi anni in cui frequentava l'Accademia di Belle Arti di Bologna Perché un artista del territorio Se voleva diventare tale Si doveva formare ovviamente nell'istituto Che c'era a Bologna Quindi l'Accademia di prima l'Accademia Clementina Poi l'Accademia di Belle Arti E qui ovviamente entra in contatto Non solo attraverso i propri docenti Ma evidentemente attraverso le frequentazioni A tutta la sua vastissima clientela Lui praticamente diventerà il più grande decoratore Di case del nostro territorio Fu un grandissimo scenografo Un grandissimo divulgatore delle sue opere Ma anche un grandissimo pittore e arredatore Veramente un artista a tutto tono A un certo punto la sua diventa una sorta di azienda Quindi chiamerà i suoi due fratelli Anche loro erano artisti e pittori Si trasferiranno con lui In una casa che poi diventerà la casa di famiglia Che si trovava a due passi dall'Accademia di Belle Arti E con i due fratelli diventa una vera e propria azienda familiare La cosa che vorrei far notare di più di quest'artista Adesso vi farò vedere anche qualche cosa sua È che era molto attento alla divulgazione delle sue opere E quindi soprattutto attraverso i suoi due fratelli Che erano due bravissimi incisori Fece fare le copie non solo dei suoi quadri Ma soprattutto delle sue idee Lui abbiamo detto era un grafomane Quindi disegnava tantissimo E questi disegni poi venivano Che erano idee prospettive Scenografie Decorazioni per i palazzi Idee bizzarre Decorazioni e quant'altro Venivano poi Fatte le incisioni dai fratelli Quindi questo consentiva di vendere e guadagnare Ma soprattutto di diffondere la sua arte Giustamente con un titolo molto azzeccato Quando venne fatto fare qualche anno fa La bellissima mostra su di lui E cioè Antonio Basoli Il sottotitolo era L'artista Il viaggiatore Che resta a casa Cioè lui fu una persona curiosissima Amava conoscere Tutto quello che c'era nel mondo Ma non volle mai spostarsi da casa Lui fece sostanzialmente Solo due viaggi di istruzione Fece pochissimi viaggi di lavoro Si spostò solo sostanzialmente Nell'area del Friuli Per fare alcune decorazioni Per la sua istruzione Andò giusto giusto Una volta nel 1805 a Milano Ma in quel momento Milano Era anche la capitale culturale italiana Una delle grandi capitali culturali europee E quindi ovviamente era anche un modo Per agganciare altra clientela E poi soprattutto nel 1818 Ma lui era già un artista Belle che è formato E anche già famoso Finalmente l'agognato viaggio a Roma Perché ovviamente era una grande amante Come tutti gli artisti di inizio ottocento Dell'arte classica Rifiutò commissioni importantissime Gli venne richiesto di andare a lavorare Presso la corte di Ghisar La rifiutò Gli venne addirittura richiesto di andare a fare Da scenografo Nelle Americhe A New York Siamo all'inizio dell'ottocento Rifiutò anche quello Lui amò sempre rimanere nella sua amata Bologna Ma attraverso le sue opere In realtà si diffuse In tutto il pianeta Vi faccio vedere giusto alcune cose Ma vi ricordo che poi Metterò il post Nei commenti Che vi indirizzeranno alla pagina Dove troverete Tantissime immagini Per farvi capire quanto moderno Forse anche quest'artista E come lui Si è passato tranquillamente Dalla cultura neoclassica Cioè quindi dal riproporre La cultura dell'antica Grecia E dell'antica Roma A invece al romanticismo Cioè quindi mettere il sentimento E rompere un po' con la classicità C'è per esempio Tra i tanti tacuini Che lui ha realizzato Solo un tacuino di nuvole E di cieli Lui proprio per imprimersi Nella memoria Averli anche sempre in casa Gli effetti di luce del cielo Che potesse così Riprodurli nelle sue opere Ne fece appunto dal vero Quindi lui usciva Si metteva la finestra Immaginiamo a riprodurli Un piccolo tacuino Con tantissimi piccoli disegni Del cielo Alle varie ore Con la pioggia Col sole pieno E quant'altro La cosa interessante E che poi lui Metteva nei vari colori Dei numeri Perché in fondo C'era poi la tavola Cromatica Perché Il rosso per esempio Che aveva visto nel tramonto Poi lo riuscisse a riprodurre Nella maniera Più esatta Fu praticamente Uno dei più grandi scenografi Di Bologna Ma anche tra Quelli italiani Un'opera quasi tutta sua Che purtroppo è andata distrutta Perché Immaginate I teatri venivano dipinti E decorati Ma l'illuminazione Era a candela prima Sarà a gas poi E molto tardi Verrà quella elettrica Quindi i fumi Delle candele E del gas Annerivano subito Nel giro di pochi anni Le decorazioni Quindi un po' perché Ogni 20-30 anni Si rifacevano le decorazioni Un po' perché i teatri Poi chiudevano O sono stati bombardati Sono andati perduti Vi faccio vedere Questo suo progetto Eseguito Per il teatro Contavalli Di Bologna Che come Consuetudine È diviso in due parti Cioè lui Alla committenza Proponeva l'idea di Massima E forniva due alternative Simili Ma leggermente Differenti Quindi In accordo con la proprietà Ovviamente si era messo D'accordo sul tema Su più o meno Come doveva essere E comunque alla fine Venivano date Due Due scelte Sarà un artista Che abbiamo detto Decorerà innumerevoli palazzi E li decora nel momento In cui tutti vogliono Renderli moderni Perché Il gusto neoclassico D'inizio ottocento Rompe completamente Con tutto quello Che era stato Nel passato Soprattutto il barocco E quindi In metà dei seicento E tutto il settecento E quindi Tutte le famiglie Soprattutto quelle a Pienti Ma anche la nuova borghesia Che si stava affermando Ridecora I propri palazzi Con lo stile moderno Ve ne faccio vedere Uno bellissimo Che è proprio Oggi diremmo All'etrusca E lo si capisce subito Perché ci sono Le decorazioni Con le figure rosse A fondo nero Ispirati proprio Dai vasi Etruschi Che venivano scoperti Nelle tombe Delle varie Necropoli E qui notate Per esempio Che disegna anche Il camino In effetti Lui spesso Non solo Era chiamato A realizzare Le decorazioni Ma anche I mobili Ci sono Album Di basoli Conservati in accademia Di sedie Panche Tavoli In quantità Molte Erano Così Realizzate Come campionario E a volte Invece Si trova A fianco All'annotazione Che quel tipo Di disegno Quel tipo Di sedia Venne poi Realizzato Per un certo Tipo Di famiglia Altra cosa Vi faccio Notare Ci arriviamo È che La sua Fantasia Sfrenata Tra i tanti Album Dell'accademia Ci sono Decine Di album Di copie Dai freggi Romani Copie Da vasi Etruschi Copie Dalle statue Copie Dalle incisioni Antiche Ma a un certo punto Lui fece Un'opera Che è veramente Un unicum In tutto il panorama Dell'ottocento europeo Lui quest'opera La chiamò Alfabeto Pittorico Quindi insieme Con i suoi collaboratori E i suoi fratelli Fece delle incisioni Quindi è un'opera Che non nasce Per essere Pittura Ma nasce Per diventare Incisione Per essere Diffusa Ed è un alfabeto Cioè quindi Tutte le lettere Dall'alfabeto Dalla A Alla Z Ma queste lettere Diventano Architetture Immaginarie Voi dite Che cosa ne viene fuori Vi faccio vedere Tre lettere Che sono riprodotte qua Ma che sul nostro sito Storia Memoria di Bologna Potete vedere Per intero Quindi qui vedete La lettera A La B E la E E vedete che diventano Architetture Di totale fantasia Diventano edifici Multipiano Diventeranno Immaginate Una Q O una O Delle gallerie Profondissime Fu veramente Un oggetto Nato per Il collezionista Per l'amante Delle cose Curiose E E' talmente Moderno Il concetto Di quest'idea Che per esempio Una copia Dell'alfabeto Pittorico Se la comprò Il regista Di Alien Perché vide In queste Architetture strane Qualche cosa Che poi Torna Ovviamente Nel Nel film Le sue Tavole Non era solo La tavola Le tavole Con le lettere Diciamo così Fantastiche Ma ogni tavola Ogni lettera Aveva poi Un commento E se ve lo andate A sfogliare Sul nostro sito Vedrete che poi Per esempio Una lettera C Il testo E' pieno Di parole Che cominciano Con la C Quindi tutto Un divertissement Che doveva essere Un bel passatempo Per gli intellettuali Dell'epoca C'è chi oggi Ha lo smattolo Sotto il naso E invece Una volta Ti dovevi mettere Di sera Con lume di candela A guardarti Della carta E per farvi capire Quanto fosse Fantasioso Nella sua testa Volendo Vi faccio vedere Questo Bellissimo Dipinto Che riprende Immaginandolo Perché ovviamente C'erano le descrizioni Dei autori antichi Ma Neanche erano stati fatti Degli scavi archeologici All'epoca Quindi non si sapeva Fisicamente Assolutamente Nulla Di civiltà perdute Come quelle Sumere O del lontano oriente Questa tavola Dove c'è una Piramide a gradoni Una grande statua Tutto ambientato Di notte Ha per titolo Il colosso Di Nabucodonosor Che è del 1840 Quindi da una parte Lui era un artista Estremamente concreto Pratico Ma dall'altra Aveva una fantasia Sfrenata Per esempio Nel 1842 Quindi sei anni Prima che morisse Espone come di consueto Un'accademia di belle arti Dove insegna Espone tutta una serie Di dipinti Vi leggo i titoli Perché sono veramente Indicativi Della sua grandissima fantasia Quattro colossi Di Memnone In Egitto Di Rodi Sul Porto Di Nabucodonosor In Babilonia Di Domiziano Equestre In Roma Le quattro parti Del globo Europa Asia Africa E America Cinque famosi Templi dell'antico mondo Quello di Osirido Ed Iside In Egitto Quello di Fone La China Quello di Giovino Limpia Quello di Diana In Efeso Una città Del Pegù Un recinto Di tombe arabe La grande sala Di Carlo Magno La reggia Della Maga Alcina Quindi ci sono Erano tutte vedute Alcune sono state Fortunatamente Rintracciate Alcune erano vedute Di cose effettivamente Esistite Ma perdute E quindi Il tempio di Zeus Olimpio O altre cose Totalmente fantastiche Come la reggia Di una maga E ovviamente Immaginate anche L'impressione Che dovevano avere Questi dipinti Nella nostra Bologna Che tutto sommato Come dico sempre È sempre stata Ed è una città Di provincia Ma non è sempre stata Esattamente Provinciale Ovviamente Il suo modo Di dipingere Faceva un po' Contenti tutti Perché non possiamo dire Che lui fosse un Rivoluzionario A livello Tecnico Ma sicuramente È stato Un rivoluzionario Nel quello Che ha rappresentato Non ci sono Molti paragoni In Europa Di artisti Che hanno spaziato Così tanto Con l'immaginazione Con le proprie Opere Ci sono artisti Per esempio Come famosissimo In Germania Caspar David Friedrich Che ovviamente Si è dedicato Moltissimo Per esempio A immaginare Rovine Gotiche Di chiese Monasteri Di ruti In mezzo Alle nebbie Di notte Cimiteri E quant'altro Quindi Siamo in quell'ambito Proprio del neoclassicismo Che sfora E va In pieno Nel romanticismo Ma pochi Veramente 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 Pochi Hanno avuto Quella fantasia Quel voler Ripercorrere Il mondo Standosene Comodamente A casa Morirà Nel 1848 Pochi mesi Prima Che Bologna Cacciasse Gli austriaci Dalla propria Città Sicuramente Dal punto di vista Politico Non si spese Mai In prima Persona Ma Sicuramente Era a favore Di tutte quelle Che erano Le aspettative Della maggior parte Delle persone Cioè di un'Italia Unita E libera Tant'è vero Che per esempio Tra le prime cose Che fece Nel 1796-97 Fu per esempio Una sala Decorata Alla Cispadana Quindi con le bandiere Italiane Che erano state Da poco inventate Pensate A Reggio Emilia Per Nel palazzo D'Accursio Quelle decorazioni Ovviamente Vennero distrutte Con il ritorno Del governo Pontificio Nel 1815 Però il fatto Che lui Abbia aderito Già da quel momento Diciamo così Ai nuovi Ideali Ovviamente Ci fa capire Da che parte Stasse Inoltre Da ragazzino Quando arriva a Bologna E non solo Andava in accademia Ma cercava Diciamo così Anche gli appoggi Di personaggi Influenti Troverà accoglienza Nella casa Del marchese Aldrovanni Personaggio Di primissimo piano Della nostra città Soprattutto Un personaggio Che svecchierà La cultura Di Bologna E che ospitava Consentendo l'accesso Alla sua ricchissima Biblioteca Di andare a Diciamo così Scoprire Soprattutto Stare insieme Frequentarsi In una sorta Di salotto Di giovani artisti Le due figure Più importanti Che Aldrovanni Mette sotto La propria ala Saranno ovviamente Il nostro Antonio Basoli E poi un personaggio Che avrà una fama Molto più Grande Già in vita Che è Pelagio Palaggi Pelagio Palaggi Diventerà Sostanzialmente L'artista di corte Dei Savoia E quindi ovviamente Avrà una carriera Pubblica Molto molto più in vista Rispetto ad Antonio Basoli Ma ricordiamoci Che questi due Erano due carissimi amici Che continuarono a scriversi A vedersi Nel corso di tutta La loro vita E che fanno I primi passi Insieme Insieme Fonderanno Insieme ad altri artisti Bolognesi Una sorta di Circolo privato Il Circolo della Pace Dove c'era per esempio Anche Felice Gianni Dove Lo ricorda lui Ogni sera Che ci si vedeva Uno di loro Faceva un disegno Un dipinto E lo mostrava Agli altri Lo mostrava Perché venisse Giudicato E criticato Quindi ci fa capire Anche il rapporto Sincero Di grande amicizia Che c'era Tra questi artisti E forse Viene anche da dirci Anche un po' Di invidia Per la vita Che hanno avuto Bene Non vi voglio Non voglio dilungarmi Troppo Con la mia diretta Vi ricordo Che sul sito Storia e memoria Di Bologna Trovate la pagina A lui dedicata E tantissimi approfondimenti Compresi interi album Da sfogliare Vi ricordo Che la prossima diretta Sulla nostra pagina Sarà lunedì prossimo Buona serata E tantissimi approfondimenti E tantissimi approfondimenti